Edilizia sanitaria, approvato con il passaggio finale della conferenza delle regioni, il piano di edilizia ospedaliera per l'importo di 1 miliardi e 80 milioni di euro, esulta il Presidente della Regione, Commissario della Sanità Campana, Vincenzo De Luca. Dopo un'istruttoria durata 15 mesi, finalmente ha detto sblocchiamo i fondi dopo 18 anni. Un risultato straordinario conseguito dal Governo regionale che accede a questo finanziamento avendo innanzitutto risanato i bilanci e avendo creato e approvato una nuova e coerente rete ospedaliera. Sono risorse importanti, ha detto ancora De Luca, decisive per ristrutturare decine e decine di strutture ospedaliere e realizzare una pagina nuova nella sanità campana. Non esultano invece gli ospedali di Pollo e Sapri che sono sì nella programmazione ma non nella prima annualità, essendo anche carenti di progetti esecutivi. Da tempo il piano terra del Presidio dell'Immacolata attende un intervento edile urgente a cui però non è stata mai data la giusta priorità. Queste risorse servono ad ammoronare decine di ospedali nella regione, nella provincia di Salerno a completare il polo oncologico a Pagani, il pronto soccorso a Debori, le sale operatorie a Debori, a realizzare ospedali importanti come quello a Costiera Sorrentina, l'ospedale San Paolo a Napoli. È un investimento gigantesco, veramente stiamo facendo miracoli tenendo conto del quadro generale della finanza pubblica nel nostro paese.